Lorenzo ci scrive io non mi stancherò mai di dirlo io ho 27 anni e molti miei coetanei prendono 1200 1300 euro al mese se devi pagare un affitto un mutuo e arrivare alla fine del mese come puoi avere dei risparmi da investire? La domanda di Lorenzo è ben posta e come ti ho spiegato in altri video l'obiettivo di questo 2023 è approfondire il tema del reddito anche che abbiamo troppo trascurato in passato su questo canale come poter aumentare il proprio reddito e in questo video che ritengo per molti sarà illuminante ti condivido tre metodi tre strategie per poter aumentare drasticamente il tuo reddito nei prossimi 12 mesi parliamo di tutto questo e tanto altro in questo video iniziamo io e il team di piano finanziario abbiamo una grande novità vogliamo invitarti ad un evento speciale la presentazione di piano finanziario 2.0 stiamo lavorando da tanto tempo a questo progetto e finalmente possiamo annunciarvi la naturale all'evoluzione di piano finanziario un evento da non perdere l'evento si chiama piano finanziario 2.0 ed è totalmente gratuito si terrà il 15 febbraio alle ore 21 il link per iscriverti lo trovi qui in basso ti aspetto il 15 febbraio ciao Lorenzo quindi ci pone davanti alla questione che molte persone hanno stipendi molto contenuti e poi dice lo so che basta aumentare le proprie entrate tramite un aumento delle proprie capacità lavorative ok approfondiremo questo tema a livello di istruzione se lo sai di cosa stiamo parlando ma mi pare ingiusto che lavorando 40 ore a settimana non si riesca ad essere sereni prima di approfondire queste tre idee che voglio condividere in questo video però dobbiamo fare un'opportuna premessa perché quello che mi ha spinto a fare questo video è il termine giusto cioè a Lorenzo pare ingiusta questa condizione ma ci sta ai più di 10 anni meno di me ci sta che tu abbia un approccio idealista io ormai nei miei 40 anni con quasi 20 anni di lavoro posso dire che cercare l'equità o la giustizia in certi contesti non ha un gran senso cioè è una ricerca fino a se stessa perché il fatto che la situazione per i giovani di oggi sia più difficile rispetto ai giovani della generazione precedente è un fatto e questa è una valutazione oggettiva il tema se questo sia giusto o non giusto pone la questione a livello un po' infantile nel senso che la vita non è giusta ok stiamo comunque in un contesto in cui siamo in un paese sviluppato democratico lo so che ci sarà chi scrive sì ma con il covid la democrazia è andata a farsi friggere ok a meno di condizioni straordinarie rimane un paese democratico in cui io posso esprimere il mio parere come voglio su youtube in certi paesi questo non è possibile quindi rimaniamo un paese democratico in generale se prendiamo i paesi sviluppati che più o meno al mondo diciamo che prendano 700 800 milioni di abitanti tra stati uniti america giappone australia eccetera su 9 miliardi di persone a questo mondo siamo nel 10 per cento più ricco del pianeta quindi attenzione a parlare di giustizia perché al di là del fatto che una persona sia nata in una famiglia più ricca o più povera in italia all'interno del contesto mondiale abbiamo avuto una gran fortuna a nascere nella parte sviluppata del mondo quindi quando ragioni in termini di giustizia cerca sempre di contestualizzarla a livello geografico ok tu rispetto a un altro 27enne nato in burkina faso non lo so o tu rispetto un altro 27enne nato in svizzera ok sei meno fortunato di uno svizzero sei molto ma molto più fortunato di uno nato nel burkina faso e due anche valutarla a livello storico e questo è un altro tema fondamentale in questa fase di premessa perché altrimenti non capiremo quello che viene dopo è ormai diversi anni che faccio una settimana di vacanze in montagna zona valpusteria valvadia insomma tutto l'alto adige o su tirolo e con gli anni mi sono appassionato alla storia di quel periodo alla tragica storia della prima guerra mondiale di tutte le trincee che ci sono state le guerre della prima guerra mondiale alla tragedia del conflitto che si è combattuto proprio zona cortina lagazzuoi eccetera e capire quelle storie lì e capire come dei ragazzi di 19 anni sono andati a combattere una guerra a meno 20 gradi sulle alpi e sta gente era stata presa prevalentemente dal sud italia ti permette di ricontestualizzare un po il concetto di fortunato sfortunato soprattutto perché quelli sopravvissuti vent'anni dopo potenzialmente sono andati a fare la seconda guerra mondiale quindi rendiamoci conto che sia a livello geografico siamo strafortunati sia a livello storico siamo se non la generazione più fortunata del mondo nei paesi sviluppati che tra poco ti dirò qual è siamo la seconda o la terza ok perché generazioni come quella dei miei nonni ad esempio di guerra mondiale se ne sono fatti due quindi attenzione e io ci penso spesso a questi temi e colgo l'occasione di questo video per condividere un paio di idee molto spesso non ci rendiamo conto che siamo cresciuti nella bambagia che non abbiamo vissuto grandi condizioni di stress tipo il terrorismo degli anni 70 la povertà del dopoguerra le guerre il fascismo tutte queste cose ci dovrebbero far capire che ragazzi oggi tutto sommato al di là di condizioni che sono in peggioramento rispetto alla generazione precedente tutto sommato non abbiamo dei problemi che altre generazioni hanno dovuto sopportare e così dovremmo sentirci un po più fortunati e quantomeno non mettere sul piatto il concetto di giusto perché il concetto di giusto è relativo quindi il primo suggerimento che ti voglio condividere prima ancora di parlare di strategie per aumentare il reddito è togliti dalla testa il concetto di giusto o sbagliato perché prima lo fai prima capirai che la vita non è giusta è andata comunque di c***o a nascerne la parte fortunata del mondo in un contesto senza guerre pensa se tu avessi 27 anni in ucraina avresti altri problemi o pensa se avessi 27 anni in turchia con non so quante decine di migliaia di morti con il terremoto degli ultimi giorni prima ci togliamo dalla testa il concetto che la vita non è giusta e che qualcuno ci deve qualcosa prima inizieremo a costruire il nostro futuro in ambito professionale in ambito finanziario e in generale prima riusciremo a vivere una vita soddisfacente secondo i canoni che abbiamo definito noi in altre occasioni ho citato rei daglio che ha questo concetto che per me è vitale e io lo sposo completamente che accetta la realtà è fatta in una ragione leggi il libro principle direi daglio per approfondire questi temi che sono i principi che l'hanno portato a successo ok non contestare il fatto che non è giusta o no una cosa ma accetta la realtà fatene una ragione e cerca di tirare fuori il massimo dalla condizione in cui sei chiarito questo entriamo un po più nel dettaglio della condizione in cui stanno vertendo i giovani oggi questo è un grafico proveniente dagli stati uniti chiaramente non esiste qualcosa di simile per l'italia ma negli stati uniti la percentuale dei giovani dei ragazzi che stanno percependo uno stipendio superiore a quello dei propri genitori è ridotta ai minimi è scesa drasticamente nel corso degli anni e sulla scala delle x vedi l'anno di nascita ok quindi solo il 50% di chi è nato nel 1984 io sono un 82 per capirsi prende uno stipendio superiore a quello dei propri genitori ma se guardiamo ad esempio al 1960 la percentuale di adulti per dire i miei genitori che prendeva uno stipendio più elevato rispetto ai loro genitori quindi ai miei nonni era attorno al 70 per cento e questo vuole dire due cose innanzitutto sì sicuramente le generazioni di oggi fanno fatica a tenere il passo delle generazioni precedenti va bene al di là degli stati uniti in italia in termini reali gli stipendi non aumentano da 15 anni quindi al netto dell'inflazione e quindi è più difficile accumulare patrimonio ma se lo guardiamo da un altro punto di vista questo grafico dovrebbe anche farci capire come è stata la generazione precedente che probabilmente ha avuto una condizione particolarmente favorevole mi spiego tutti i numeri sono sempre relativi soprattutto quando ci confrontiamo ad altri scenari ok alla generazione dei nostri genitori cioè possiamo dire che questo è basso un 50 per cento o potremmo dire che l'80 per cento di persone della generazione dei miei genitori che aveva uno stipendio superiore ai loro genitori beh era una condizione di boom economico e infatti hanno vissuto il boom economico quindi è ovvio che quello sia incredibilmente più elevato perché nel dopoguerra c'è stato un boom economico boom demografico forte crescita dei redditi grande inflazione ovviamente si è passati da paese poverissimo distrutto dalla guerra a paese sviluppato quindi c'è stata una fase di sviluppo sono aumentati tanto i redditi le nuove generazioni stavano meglio in percentuale o molto meglio in percentuale rispetto alle generazioni precedenti questo fenomeno è andato poi a ridursi quando l'italia è diventato un paese sviluppato quindi attenzione quando si analizzano i dati perché è indiscutibile che le generazioni di oggi abbiano condizioni peggiori rispetto alle precedenti ma è altrettanto indiscutibili che la generazione precedente quella dei miei genitori i baby boomers per dire sia stata la generazione più opportunata a mio parere degli ultimi 150 anni possiamo dire giusto perché faccio fatica andare più indietro nel tempo di così non hanno visto guerre sono nati nel dopoguerra mio padre è nato nel 45 quindi non hanno visto guerre hanno vissuto un boom demografico ed economico incredibile sono riusciti ad accumulare risparmio e patrimonio facendo le cose più semplici al mondo comprando immobili senza capire esattamente quello che stavano facendo solo perché l'immobile è immobile non si sposta e quindi a valore questa era l'analisi finanziaria che hanno fatto le generazioni precedenti rispetto a quello che dobbiamo fare noi adesso che è un po più complessa e che condividiamo su questo canale insomma scenari particolarmente favorevoli quindi non parliamo di giusto o sbagliato o meglio se mai accettiamo il fatto che c'è stata una generazione precedente che è stata incredibilmente fortunata non ha colpa e non ha merito e quando ci confrontiamo a certi scenari dovremo mettere tutto sul piatto loro fortunati ma attenzione gente che veniva su dal dopoguerra non aveva grandi sfizi di andare a cena fuori tutti i venerdì sera comprarsi un telefono da 800 euro o avere l'abbonamento a netflix era gente che risparmiava fette importanti del proprio stipendio che comunque era in una fase di crescita ma non dimentichiamoci che l'atteggiamento al lavoro la capacità di risparmio il tenore di vita erano profondamente differenti rispetto a quello a cui ci siamo abituati tutti noi cresciuti in un paese sviluppato questa era una premessa indispensabile da fare perché altrimenti continuiamo a pensare ah il mondo è ingiusto non è giusto che prenda 1300 euro al mese e hai 27 anni pensa se ne avessi 60 cioè hai 27 anni hai una vita davanti puoi fare ancora quello che vuoi bene cambiamo atteggiamento proviamo ad essere propositivi e cercare di capire che sì lo scenario è più difficile rispetto a una generazione tra le più fortunate della storia però tutto sommato non ci va poi così male in un contesto in cui come vedremo adesso posso adottare delle strategie dei principi per migliorare il mio reddito il mio posizionamento in ambito professionale e quindi la mia sicurezza e indipendenza finanziaria bene chiarito questo quali sono queste tre strategie che voglio condividere con te e le condivido forte di quasi 20 anni sul mondo del lavoro io ho iniziato a lavorare nel 2006 e della mia esperienza lavorativa nove anni e mezzo circa li ho fatti come dipendente e i restanti come libero professionista e imprenditore quindi posso dire e penso sia il valore di questo video il poter condividere una prospettiva da dipendente e da datore di lavoro perché ho vari collaboratori qui a modena sia per quanto riguarda piano finanziario vari collaboratori per quanto riguarda vend house la mia società immobiliare e quindi ho una visione abbastanza completa e trasversale di che cosa vuol dire il lavoro ok se vuoi capire come guadagnare di più devi avere sotto controllo tre aspetti primo devi avere competenze che il mercato vuole oggi capiremo meglio cosa vuol dire secondo devi avere competenze che il mercato vuole domani comprendendo bene che il mercato evolve costantemente e non ama pagare l'improduttività 3 devi capire come vendere le tue competenze al prezzo più alto possibile data questa condizione di mercato ok primo devi avere competenze che il mercato vuole oggi definiamo mercato ok perché il mercato sono i mercati finanziari sono loro che tengono basso il nostro stipendio no il mercato è ognuno di noi che decide cosa e come consumare un prodotto o un servizio quindi quando io o altri sostengono che il mercato si è voluto e non vuole più pagare per determinati servizi o beni è perché la maggior parte dei consumatori ha deciso così come con le sue abitudini di spesa e lo fa perché rispecchia i suoi valori ad esempio oggi prendiamo amazon ci ha abituato a consegnarci le cose entro 24 ore il mercato chiedeva quella cosa chiedeva di poter comprare comodamente da un telefono o da un computer da casa senza dover andare in un centro commerciale un'azienda ha intercettato una necessità di mercato e ha creato un servizio senza fare pubblicità che però è molto efficace le persone e il mercato oggi si sono abituati a questo tipo di servizio e non valutano più un'alternativa ok o meglio capiremo tra poco qual è l'unica alternativa che può essere valutata perché perché può dare un valore al mercato che amazon non dà però questi sono concetti di evoluzione del mercato che dobbiamo prendere per buoni non valutiamoli se sono corretti o sbagliati perché innanzitutto non ci possiamo fare niente noi in prima persona non possiamo cambiarli se mai queste cose possono essere cambiate a livello di fatale con determinate leggi ma noi nel nostro piccolo non ci possiamo fare niente quindi accetta la direzione in cui va al mercato e cerca di capire se tu hai le competenze che il mercato chiede oggi facciamo qualche esempio di cose che il mercato non vuole pagare molto semplicemente poi parleremo di che cosa il mercato vuole pagare il mercato non vuole pagare la mancanza di valore aggiunto ok facciamo un esempio vai in autostrada arrivi al casello c'è un valore aggiunto da parte del cassiere a cui dai il tagliandino dell'autostrada e i soldi e che ti dà il resto non molto valore aggiunto non è percepito dal mercato non è percepito da autostrade per l'italia o un'altra concessionaria di conseguenza quello è un lavoro fortemente a rischio perché non dà un valore che il mercato è disposto a pagare un altro esempio di cose che il mercato non è disposto a pagare i negozi in centro che vendono roba che puoi trovare su amazon ormai la gente si è abituata a comprare in quel modo lì quindi se tu non dai alcun tipo di valore aggiunto capiremo meglio cosa si intende per valore aggiunto e ti limiti a fare il rivenditore di cose che uno può trovare su amazon non meravigliarti se la gente non vedendo il valore del tuo lavoro va a scegliere dove acquistare sulla base del prezzo e online ovviamente per ragioni di economia di scala le cose costano meno ma come posso trasformare un'attività che ha poco valore aggiunto percepito da parte di un potenziale cliente in un'attività ad elevato valore aggiunto devo aggiungere della consulenza ad esempio vendi scarpe ok se vendi sneakers scarpe da ginnastica e ti limiti a comprare le scarpe di nike e metterle sul tuo scaffale non c'è un gran valore aggiunto perché io posso comprare la stessa scarpa online e guarderò il prezzo come posso dare valore aggiunto beh innanzitutto potrei farti delle consulenze in ambito di stile ok dire guarda questa scarpa sta molto bene con questo tipo di abbigliamento oppure parlo di gente che corre fa le maratone io non ne so niente però è un settore che richiede grande specializzazione devi scegliere molto bene la scarpa e guarda caso molti dei negozi di scarpe che sopravvivono sono quelli legati alla corsa al podismo perché è ovvio serve molta competenza in quel settore per consigliarti la scarpa giusta mi dicono corridori che se scegli la scarpa sbagliata puoi anche rovinarti le articolazioni quindi serve della consulenza quindi chi compra non sta più comprando una scarpa sta comprando una scarpa che potrebbe anche trovare online ma dà valore al servizio consulenziale di guida di tutoraggio nella decisione della scelta della scarpa perché le persone non sono esperte non nella maggior parte dei casi hanno bisogno di una guida quindi il valore sta nella guida all'acquisto non tanto nell'acquisto chi lo capisce continua a prosperare chi non lo capisce verrà mangiato dall'e-commerce l'obiettivo di questo video è stimolare il ragionamento e farti capire che ogni attività se fatta come si deve può avere ampi margini di miglioramento in termini di reddito perché di gente disposta a pagare per la qualità ce n'è sempre semplicemente la gente non è più disposta a pagare per la mancanza di valore aggiunto dopo tutto pensalo al contrario tu apri il tuo negozietto e vendi le tue 50 scarpe che compri da un rivenditore ma che valore aggiunto dai al mercato nessuno questo è un valore che dieci anni fa vent'anni fa una generazione poteva permettersi di non pagare pagava il tuo ricarico che di fatto che rischio di impresa avevi sì ok avevi un magazzino pieno di scarpe magari non ne sapevi neanche particolarmente tanto di scarpe ok semplicemente il mercato te lo pagava oggi non te lo paga più perché i consumatori sono diventati anche più sofisticati prendiamolo per quello che è non è giusto non è sbagliato è semplicemente la situazione attuale se inizi a capire che il valore aggiunto sta nell'interpretare che cosa vuole il mercato e offrirglielo inizierai a vedere che di opportunità ce ne sono tantissime perché comunque da frequentatore degli stati uniti da persona molto attenta all'evoluzione del mercato ti dico che ci sono molte nicchie che negli stati uniti ad esempio sono molto sviluppate perché ci sono dei consumatori ancora più sofisticati che qua sono ancora allo stato embrionale ti faccio un esempio tutti i servizi premium cioè destinati ad una fascia che può permettersi di spendere in italia sono molto poco sviluppati noi non sappiamo a cosa vuol dire il segmento premium del mercato quantomeno non lo sappiamo se paragonati al mercato americano ad esempio in questo momento ad esempio io dovrei fare un paio di lavori di manutenzione alla macchina fare il tagliando fare la conversione alle gomme tutte cose che per me hanno scarsissimo valore aggiunto non trovo nessuno a cui delegare questa attività che magari mi venga a prendere la macchina in ufficio e me la riporti già tagliandata già pronta ed è un servizio che io pagherei molto volentieri e questo è un esempio che si cala nella mia realtà pensa a quanti altri servizi si potrebbero creare se solo le persone fossero più attente alle necessità dei propri clienti ma voglio fornirti qualche altra idea sempre legata al mondo dell'imprenditoria al mondo dei liberi professionisti dopo trasporremo questi concetti anche nel caso tu sia dipendente negli ultimi 12 mesi più o meno abbiamo fatto un progetto al mese uno di acquisto e uno di vendita andiamo periodicamente dal notaio facciamo degli atti quanti notai inviano il pdf dell'atto dopo che questo è stato registrato quasi nessuno questo significa voler non capire che cosa cerca il cliente semplicemente avere un documento che certifichi che ho fatto un atto ok quindi costringe me cliente a dover andare a chiedere la copia dell'atto quello notaio con cui io non lavoro più come capisci le opportunità sono innumerevoli basta avere l'atteggiamento giusto e chiedersi che cosa vorrebbe il mio cliente che in questo momento io non gli sto dando che cosa sta dando quel mio competitor che invece sta prosperando sul mercato che io non sto dando ai miei clienti come potrei rendere l'esperienza così entusiasmante da far sì che il mio cliente parli del mio servizio a terzi questo è l'atteggiamento giusto chiaramente se sei un libro professionista o sei un imprenditore e si fonda in buona parte sull'atteggiamento non stiamo ancora parlando delle competenze ma arriveremo tra pochissimi spostiamoci adesso all'atteggiamento che dovrebbe avere un dipendente chi è il tuo principale cliente se tu sei un dipendente il tuo capo il capo del tuo capo o l'amministratore della società e i soci della società quindi analogamente all'essere un imprenditore o un libro professionista stai facendo qualcosa che ha valore per una di queste tre figure il tuo capo l'azionista il capo del tuo capo lo stai facendo meglio di un tuo competitor che sarebbe il tuo compagno di scrivania se la risposta è sì allora stai dando al mercato e il mercato è chi consuma il tuo prodotto in questo caso è il tuo datore di lavoro o l'azienda in cui lavori gli stai dando qualcosa che ha valore altrimenti non stai dando valore e il reddito è una conseguenza se invece lo stai facendo possiamo argomentare il fatto che sicuramente l'italia non è un paese particolarmente meritocratico perché è un paese in cui c'è una grande tutela un eccesso di tutele e di conseguenza il valore emerge meno perché se vogliamo essere garantisti che tutti devono avere un posto di lavoro glielo andiamo a garantire anche a quelli che in posto di lavoro non se lo meriterebbero che magari meriterebbero di trovarsi non altro di posto di lavoro quindi il merito è molto più difficile da da far emergere nei paesi anglosassoni il concetto del merito il concetto di dare un servizio orientato al cliente c'è anche per i dipendenti infatti c'è il concetto di mancia e la mancia è variabile perché è variabile e proporzionale al livello di soddisfazione che un cliente ha nel servizio e la cosa interessante è che il cliente dà una mancia direttamente al dipendente che verrà poi pagato dal suo datore di lavoro quindi rendiamoci conto che è anche un po il contesto che volendo essere garantista che tutti abbiamo diritto ad un posto di lavoro rende l'ambiente lavorativo poco meritocratico ma è un dato di fatto accettalo per quello che è quello che puoi fare è che se il tuo lavoro non viene riconosciuto cambi lavoro e te ne trovi un altro tra il primo e il secondo lavoro da dipendente io con le stesse competenze ho preso il 35 per cento di stipendio in più nel lontano 2011 abbiamo parlato di atteggiamento ma parliamo anche di capacità lavorative che Lorenzo dice no non vorrei aumentare è se invece il tuo stipendio è di 1200 1300 euro al mese ti invito ad aumentarle perché probabilmente è il migliore investimento che puoi fare dei tuoi soldi non è sicuramente capire quale tf investire ma è capire come professionalizzarti e vendere a un prezzo più alto le tue competenze perché tu sei un venditore di competenze la tua capacità lavorativa deve essere messa sul mercato al prezzo più alto possibile e ora parliamo di mercato sì ma a quale mercato ti starei chiedendo bene non c'è solo il mercato italiano altro tema fondamentale sempre nella prima voce le tue competenze di erne oggi possiamo lavorare sul mercato mondiale che paga anche i redditi più alti perché non andarli a prendere perché la maggior parte degli italiani non parla l'inglese quindi di che cosa stiamo parlando che i redditi sono bassi si sono bassi perché l'italiano medio ha scarse competenze guardiamo la percentuale di laureati a livello italiano ed è analfabeta a livello di mondo perché se non parli l'inglese nella società di oggi sei equivalente ad un analfabeta cioè ti limiti a 60 milioni di italiani ok e escludi i miliardi di potenziali clienti o le milioni di aziende per cui potresti lavorare se solo sapessi l'inglese da un sondaggio che ho fatto tra la platea dell'ultimo corso che ho tenuto a moda in cui parlavamo di reddito e di come aumentare il reddito una persona su 16 ha risposto affermativamente a questa domanda cioè in grado di tenere una conversazione in inglese capendo e facendosi capire ragazzi qui siamo alla bc perché ovviamente se non capiamo dell'inglese è la lingua più parlata al mondo a livello di business forse c'è il cantonese in cina però in generale la lingua con cui si fa business e se tu parli l'inglese puoi lavorare con uno in nord america in sud africa e in e questo ti permetterebbe di vendere le competenze che già hai magari ad un prezzo più alto solo perché le vendi in un mercato diverso ok che paga di più le tue competenze non capire questo concetto è un grosso limite la differenza è che un limite che dipende da te e che puoi risolvere immediatamente prendendo delle azioni e quindi tipo imparando l'inglese e con questo abbiamo capito il fatto che tu sei pagato per le competenze che il mercato vuole pagarti oggi e se non hai queste competenze spegni questo video su youtube non guardare altri video su youtube sul tema investimento e concentrati su come avere le competenze che il mercato desidera e con questo ci limitiamo ad analizzare l'oggi il punto adesso è capire le competenze che il mercato vorrà domani e su questo tema chiaramente è molto difficile capire quali saranno le competenze richieste dal mercato domani è molto difficile perché la tecnologia sta evolvendo ad una velocità inimmaginabile pensiamo solo a chat gpt ed è un'innovazione che va ad impattare su i lavori dei white collar cioè dei dipendenti tipicamente non su lavori dei blue collar cioè quindi chi fa lavori manuali quindi tipicamente gli operai l'innovazione in certi settori come per dire quello agricolo ha già portato ad un profondo ridimensionamento della forza lavoro questi sono tutti i lavori che venivano fatti a mano 30 anni fa 40 anni fa adesso ci sono delle macchine che permettono di farlo e siamo arrivati a dei livelli in cui la robotica toglierà il lavoro a buona parte di quelle persone che fanno lavori manuali è solo questione di tempo ci sono già i primi esperimenti di distributori completamente automatici in cui un robot ti fa il pieno della benzina ma chat gpt di cui vorrei parlare in un video fammi sapere nei commenti se ti interessa pone la questione su tutto un altro livello perché adesso chat gpt che è questa famosa intelligenza artificiale che dà risposta a qualunque tipo di domande è stato in grado di passare un esame di un mba che è un percorso di studi di altissimo livello a cui vanno di solito quelle figure che vogliono poi diventare dirigenti d'azienda cio eccetera quindi se abbiamo capito che il destino di certe attività manuali è segnato anche certe attività concettuali sono fortemente messe in discussione se ti interessa fare un approfondimento su chat gpt ma ti posso anticipare che attività di grafica di sviluppo web di redazione di testi tutto di livello base possono oggi essere fatte da un'intelligenza artificiale quindi è indiscutibile che l'intelligenza artificiale alta l'asticella in modo impressionante ed è qualcosa che difficilmente si fermerà perché come non si è fermata l'industrializzazione e l'introduzione dei robot nelle aziende per dire non si fermerà anti ha già avuto un'accelerata incredibile e chat gpt è già stato integrato con con il motore di ricerca bing di microsoft quindi dei due avrà solo un'accelerazione quindi abbiamo competenze spendibili sul mercato oggi sì bene dobbiamo già pensare alle competenze spendibili sul mercato domani perché abbiamo un grosso competitor che si chiama intelligenza artificiale poi non possiamo ipotizzare scenari futuri di reddito universale che dovrà essere dato perché certe attività non saranno più fatte da essere umani saranno fatte da robot o intelligenze artificiali ci sarà molta gente che non avrà un lavoro ok e dovrà pensarci lo stato ma in questo momento non possiamo fare previsioni di questo tipo quindi limitiamoci a capire in che direzione va il mercato dove c'è il valore adesso ti condividerò un paio di idee su dove vedo valore anche tra vent'anni e con l'obiettivo di fare azioni che ci permettano di essere a mercato anche tra vent'anni accetta il fatto che l'innovazione non si fermerà mai perché la gente cent'anni fa oggi e tra cent'anni vorrà sempre prodotti o servizi di migliore qualità ad un minore prezzo quali sono due delle aree delle professioni che a mio parere sono immuni da questo problema dell'intelligenza artificiale sono due aree a me molto vicine chiaramente ne possono esistere altre però mi limita a commentare dei settori che conosco bene ritengo che la capacità di portare al mercato un servizio o un prodotto quindi di fare marketing o la capacità di vendere un prodotto o un servizio sono capacità che difficilmente verranno soppiantate da un'intelligenza artificiale ad esempio se penso a vend house alla mia società immobiliare bene vendere un immobile è un'attività che difficilmente vedo automatizzabile da un'intelligenza artificiale perché l'acquisto di un immobile è un acquisto basato sull'emotività un acquisto appunto emotivo è la tua casa dei sogni creerà il tuo nucleo familiare in quella casa eccetera difficilmente un'intelligenza artificiale riuscirà a soppiantare un bravo agente immobiliare che riesce ad inserire nella sua vendita componenti di forte emotività sicuramente però un agente immobiliare che non sa fare il suo mestiere che io e i miei colleghi immobiliari tendiamo a chiamare alzatapparelle cioè una persona che ti mostra un immobile semplicemente si limita ad alzarti le tapparelle fartelo vedere bene questa è una figura che si perderà quote di mercato ma le avrebbe perse comunque a vantaggio di un competitor una vendita fatta bene l'esempio dell'immobiliare è uno ma possiamo applicarlo anche a molti altri tipi di vendita tipicamente di cose che costano tanto o che richiedono un elevato livello di fiducia nel tuo interlocutore tipo servizi come i nostri in ambito finanziario penso di sì bene queste sono attività che difficilmente verranno sostituite da un'intelligenza artificiale perché c'è comunque una forte componente di empatia di fiducia nel tuo interlocutore componente emotiva anche quando si parla di denaro ovviamente c'è associato una forte componente emotiva quindi difficilmente soppiantabili da un'intelligenza artificiale a questo si aggiunge poi anche il tema del marketing del riuscire a guadagnarsi l'attenzione di un interlocutore ok magari producendo dei contenuti come questi su youtube o magari tenendo delle presentazioni degli speech bene queste sono competenze che non vedo facilmente sostituibili nel breve periodo da un'intelligenza artificiale quindi all'ilà di questi due settori gestione finanziaria o vendita di mobili che sono tematiche che mi coinvolgono in prima persona se vogliamo estrapolare un po di questi concetti e provare a capire come si adattano ad altri settori ad altre professionalità ovunque c'è una forte richiesta di empatia di comprensione delle necessità del cliente quindi facevamo l'esempio di prima della consulenza di vendita di scarpe ok c'è un caso specifico che richiede una forte analisi della situazione del cliente bene queste sono professionalità che a mio parere resisteranno anche all'arrivo dell'intelligenza artificiale o meglio visto che del domani non vi è certezza possiamo dire che saranno le ultime ad avere problemi mentre le prime che avranno problemi chiaramente sono tutti i lavori standardizzati che possono essere automatizzati e profondamente efficientati grazie all'utilizzo di un'intelligenza artificiale se quindi abbiamo verificato che le nostre competenze sono adeguate a quello che vuole il mercato oggi sia in termini di competenze specifiche sia in termini di atteggiamento sono adeguate anche all'evoluzione verosimile che il mercato avrà nei prossimi 10 15 20 anni a questo punto il tema è come vendere al prezzo più elevato le nostre competenze e questo è il punto numero 3 come faccio a vendere al maggiore prezzo possibile le mie competenze innanzitutto dobbiamo comprendere che le competenze possono essere comprate o vendute su un mercato che appunto il mercato del lavoro quindi la prima cosa da capire è quanto valgono le nostre competenze quanto vale la nostra professionalità sul mercato questo non necessariamente è uguale allo stipendio che prendi ipotizziamo magari tu prendi 2000 euro al mese ma per lo stesso livello di competenze per lo stesso livello di esperienza di capacità che hai gestisci già dei progetti anche quindi è un ruolo da project manager bene queste competenze magari il mercato è disposto a pagarle 2500 euro al mese 3000 euro al mese quindi ci può essere una forte differenza tra il tuo valore e quello che potrebbe essere il prezzo delle tue competenze se andassi a venderle ad altre aziende ok quindi chiaramente la prima cosa da fare è capire il proprio valore capire quanto varrebbero le tue competenze sul mercato e cambiare lavoro con l'obiettivo di riuscire a ottenere il massimo dalle tue competenze attuali che poi come dicevamo prima dovrai mantenere e garantire che rimangano rilevanti anche in uno scenario futuro che abbiamo descritto poco fa però la cosa più semplice è mettersi sul mercato del lavoro e vedere chi con le tue attuali competenze è in grado di pagarti di più ok a questo punto ci possono essere due tipologie di riscontri di feedback che potresti darmi a questa considerazione è uno l'ho già fatto bene bravo continua a farlo o due il riscontro potrebbe essere ma io ho un lavoro che in cui non gestisco niente non gestisco persone non ho competenze specifiche come faccio a rivendermi sul mercato cioè non sono particolarmente ambito perfetto cosa possiamo fare la prima cosa è cercare di renderti indispensabile o molto più utile all'interno della tua organizzazione quindi magari è un progetto quello che ti sto descrivendo che richiede un po' più di tempo per realizzarsi creati un ruolo all'interno della tua organizzazione nella mia vita da dipendente quando viaggiavo per l'estremo oriente io ho deciso visto che nel mio gruppo di colleghi nessuno seguiva un determinato mercato io ho detto nessuno lo segue lo prendo io era l'india non un mercato particolarmente attraente per molte persone io volevo diventare il referente di una determinata cosa cioè diventare il project leader di una determinata tematica bene ho detto l'india la prendo io ci sono andato 20 volte in tre anni ho passato la più o meno 120 giorni in tre anni io ero diventato il referente dell'india questo ha fatto sì che all'interno del nostro gruppo di lavoro quando c'era da capire qual era la situazione degli indiani relativamente ad una determinata questione a chi ci si rivolgeva a giorgio ovviamente che ha fatto un investimento a livello professionale mi sono preso un petto del lavoro che nessuno voleva prendersi l'ho fatto mio l'ho seguito a 360 gradi sono diventato attendibile e un punto di riferimento all'interno dell'organizzazione per quanto riguarda quel tema lì poi è andato a finire che la mia vita lavorativa ha preso un'altra piega ho deciso di fare prima il libero professionista poi l'imprenditore ma se avessi voluto cambiare lavoro era un'esperienza che potevo vendere al nuovo datore di lavoro io gestivo un progetto e gestivo le relazioni con uno stabilimento indiano ed ero il referente questo vuol dire avere un approccio attivo al mondo del lavoro cioè vuol dire prendersi una fetta del lavoro che magari altri non vogliono prendersi vuol dire diventare un leader vuol dire fare qualcosa che il tuo capo non ti ha necessariamente chiesto ma che tu ritieni che sia giusto da fare per riuscire a ritagliarti un tuo orticello da coltivare se sei dipendente non puoi fare come faccio io adesso da imprenditore che lavoro per far crescere le mie aziende tu puoi far crescere il tuo orticello all'interno di un'azienda che di altri però questo ti permette di avere delle esperienze che puoi andare a rivendere ad un altro datore di lavoro se ci penso adesso è la stessa cosa che ho fatto quando sono passato dal primo lavoro al secondo lavoro nel primo lavoro ero diventato responsabile di un determinato progetto che mi ha dato credibilità e mi ha permesso di prendermi poi quello che è stato il secondo lavoro che mi hanno offerto e che mi ha permesso anche un aumento di stipendi quindi la prima cosa da fare è fare benissimo il tuo lavoro ritagliarti un ruolo diventare un leader e diventare un riferimento per le altre persone non solo per il tuo datore di lavoro ma anche per i tuoi colleghi perché sei una persona altamente professionalizzata che diventa un riferimento per le altre persone e una volta che l'hai fatto rimettiti sul mercato e capitalizza questa esperienza questa è la cosa più semplice da fare ma molto spesso la gente rimane fossilizzata a fare le stesse cose a livello professionale per dieci anni di fila e si meraviglia se il suo stipendio non cresce non cresce perché il tuo valore non è cresciuto se questo non è sufficiente c'è una soluzione molto semplice e qui torno a quello che dicevo prima embrace reality and deal with it fatene una ragione se la cosa non è giusta e migra e per farlo ti serve l'inglese vai a vendere le tue competenze in mercati del lavoro tipicamente quelli esteri che pagano dei redditi più elevati chiaramente questa è una decisione drastica non è da tutti dire mollo tutto e vado ad abitare in germania ok vuol dire fare determinate sacrifici ma in certi casi per certe professionalità se non puoi crescere all'interno del tuo lavoro e mi vengono in mente vari casi ad esempio nel pubblico è difficile crescere magari se lavori nella sanità bene è la cosa più semplice è se sei disposto a farlo di vendere le tue competenze in un altro mercato che semplicemente è disposto a pagare di più per quelle competenze rispetto a quanto non facciamo noi in italia ne parliamo spesso su questo canale delle difficoltà che ha l'italia le sappiamo è inutile negarle parliamo di bassa produttività del mondo del lavoro elevata fiscalità una natalità che non fanno ben sperare sul futuro insomma uno scenario che rende la vita difficile a varie tipologie di professionalità o quantomeno limita fortemente le speranze di sviluppi futuri se questo non è possibile vai a vendere le tue competenze in altri mercati quindi riassumendo quali sono i tre modi per riuscire a raddoppiare verosimilmente il tuo reddito nei prossimi 12 mesi la premessa accetta la realtà è fatta in una ragione massimizza le tue competenze di oggi mantieni elevate le tue competenze considerando uno scenario futuro in cui certi lavori verranno fortemente messi in discussione dall'intelligenza artificiale 3 espandi il tuo territorio d'azione che tu sia dipendente o imprenditore al mondo perché là fuori ci sono nazioni che prosperano e non sono in una condizione come quella italiana che è da 20 anni che non vede una crescita del prodotto interno lordo per capita il mondo non è tutto come l'italia prima lo capisci prima riesce ad aumentare il tuo reddito se questo video ti ha dato valore clicca mi piace iscriviti al canale e qui in basso se te lo sei perso ti invito a riguardare un video in cui abbiamo approfondito il tema del reddito e perché in questo momento in italia ci sono leggi che rendono potenzialmente più vantaggioso essere un lavoratore autonomo rispetto a un lavoratore dipendente con questo è tutto ti saluto ci vediamo in un altro video ciao